SETT! SETT! Siamo rummello! Eeeh! Sbendio! Colazione Abrams! E se è il mio padre è rummello! Poi abbiamo trattato una cosa più colorata! Eeeh! Eeeh! CORTESO! Ecco siamo lui e rummendini! Magastrini! E' rimbata! Eeeh! 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 Stammo per pigliare la cosa! Stammo rummello e siamo rimasti in due o tre! A Napoli! Mentreiii! Stammo ancora a Napoli in due o tre! Caccio sia! C'era una posizione precedente c'erano cinque, sei gol! Più di tre minuti hanno rigato uno! La linea difensiva molto alta! Siamo rigato uno! Stammo la ruzza più buona! Eeeh! 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 Pezzela! Eeeh! Pezzela! Pezzela! Pezzabra! Pezzeeeeeeeh! Ma ci vado... Ma io non c'è neeh! Ma piace al nazionale! Eeeh! Eeeh! Ma piace al nazionale! e l'aiu andata l'azio ma non c'è l'impoli di schiacciare c'è niente con un litro di benzina c'è l'ho per l'unico viva la mia esattivore buonissimo mandalo in bambina mettono in bambina c'è un po' che era giocata di chi non ho chissà però ancora grazie Angeline chissà un po' come un po' sul piede preferito stai zinando con un po' che ho tenito fanno la cazza mi sento stai zinando briago 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 come è avvenuto scato uno colato per sempre correre, devi puntare, devi saltare, che va in descendo il tallone, anzi non stai cercando di chiudere il pallone. Il primo tempo con un gran bell'Empoli che ha dato tanto fastidio al Napoli, l'ho messo di risultato, il risultato è 0-0, senza voti, di Lorenzo è 0-0. Ma che porro, eh? E non ne ammette per sti panna! Starello con una sti panna! Un calciatore non sta bene, caro perrucchino, non sta bene, ma che fa che se le va a mezza, ma se mi auguratamente si fa male, tu le va a mezza, fai conto che si è fatta male perché ci sta facendo solo panna, sta tutta appappavallata. Ah, manovici, devi anzio, manovici, e il bambino, bambino da un tempo, è successo, 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 è successo. E' EHHHHH! MAEHHHH!! Pugl maybe 100 su ko resonates! Vill Grazie a tutti! Bmp mamma mamma ma l'ha fatto vedeci di credere prima ma non segna che non barco 0 devi di non c'è un po ma è una vera se la mia aprile ma per dire cinque mila tifosi del campo nel coso che si sta dicendo cosa va Non fa con me questo pallone, non fa con me questo pallone, non fa con me. Simeone, con la voglia, ma l'ha dimostrato anche nel contrasto di voler tenere il risultato. Simeone, con la voglia, ma l'ha dimostrato anche nel contesto. Bruttamente, se vogliamo parlare là sopra, siamo là, siamo primi, sono felicissimo, vinceremo lo scudetto, sono strafelice. Ma io c'è la verità, non mi piace. Ma che buono, ma questi, ma ci stiamo dicendo, ma quale va bene? Non mi piace. Non mi piace. Eh, ma la pura non mi è natata. Ma prima cosa dovete disdire le nazionali, io ce l'ho pure a chi da tribuna. Non ci ha più il nazionale, perché non... Però comunque partire alle 12.30 le nazionali... Io, alle 12.30, Sarcavani. Personalmente, calcio è un gioco che non mi piace. Sono strafelice di stare prima. Voglio stare prima. Voglio vincere il partito al 90, però io penso che non ce la faccio a lavorare il tuo campionato così. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace il gioco. Non mi piace l'idea. Troppa sofferenza. Per me è troppa sofferenza. Ma qua, ma Conte, gioca così da 20 anni, capito? Assolutamente. Mi piace di essere sempre prima, vero? Sì, sei sempre prima. Io mi faccio il suo fuoco finale perché non ho tutta la partita. Perché mi dico sempre a paura delle cose quando tu stai facendo la cross degli azioni. Po, rigolo, tiro, gol, autorretto. Parigi, una partita, poi ci si impazzialisce un po' che non vorrei fare. Trovo che si collano. Ma gioca così, Conte, voglio, ma siamo prima. Ma crede, ci stanno guardando i giusti. Sì, a Tiago, moppa. Tiago, Tiago. Che cosa stanno bene? Tiago, tu non sei nessuno. Guarda sulla capolistica. Tu non tu pari di. Ehi, che i giusti sono. Guardi che la capolistica. Sono prima, ma non mi piace.